si dipende Cantaloni, 4-2. Bravo Filippo, bravo Filippo. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Marco, davanti, Marco, davanti. Antone, vieni a Antone, vai. Muschere, muschere. No, non si può vedere, lo sto patato almeno tre volte da quando iniziato. Aldo, alla pirla, Aldo. Saremo intorno al quindicesimo. Ceri, vero Aldo. La toccata, la toccata. Filo, davanti, Filo. Forse il chiamato di distanza può giocare. Filo, Filo. Filo, Filo. Filo, Filo. Filo, salvo che è tua, salvo è tua. Non lo si ammazza in questo campionato, io te lo dico. Fermato. Laterale, è laterale, raga. No, l'ha presa lui, signore. L'ha presa lui, prima che è uscita. Dai, cazzo d'acqua. Dagliela, Filippo, se non l'hai visto. Dagliela, Filippo. Diglielo a tu, c'è un piaccio di rida. Filo, dagli la palla. Ecco, ti ha sentito. E va tanto bene. E' un grande. Ti ascoltato. Un grande esterozio, provato. Che lo posso dire, allora li conosco, quindi. Andrzej, Figueroa. Ti dà. Vai Antonio, vai Antonio. Vai Lanto va, va. Il ciavo, onico, non c'è mai mai questa laterale. Si sta fermo, lo dico io, metto e collo adesso. Lì poi in tutto questo è da 15 minuti. Chiamalo, lo devi chiamare, non lo hai capito. Michi, poi quando vuoi, Michi. Vai Michi. Buono, va bene. Vai Filo, senza farlo Filo, che ne abbiamo quattro. Scendi, scendi, scendi. Vai Dario, vai. Si vuittola la tabella per contare. Vai Dario. Si vuittola la tabella per contare. Che minuto stai, Francia? Perché ho perso il tempo? 19-22. 19-22. Lui ci ha ferito. Non lo chiami. Un beccatino, non ce lo chiamo. Vuole essere lui fuori. Vuole essere lui fuori. Grande Anto, bravissimo. Bravissimo. Per questo sto chiamando. che si arriva a fare il tempo. Grande Marco, bravissimo. Mentre, lì. Non lo so. Tira il po'. Va bene. Uff. Non lo chiami. 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 Piero, ma dove sono stamattina? Piero, ma dove sono stamattina? Tu sai che siamo in 15 secondi? No, Stavo, devi guardare! Ci devi guardare! Guarda che c'è la forza fisica qui! Non lo è forte a girare! Non lo sai di guardare! Sì, sali! Bravo! Bravissimo! Ho fatto due golle Michele e io spengo il videocamera! Ok, dietro! Che voglio? Che cosa sa di? Non uscirà mai, fino alla fine! Davide, uno dentro! Uno dentro! Ma perché? Non rompere il pallo? Ho fatto 20.000 video! Manco 3 minuti! Time out! Time out! Partita spezzativa! Ciao!